Siamo in compagnia dell'Avvocato Daniele Compagnone, socio dello studio Mosetti Compagnone. Le chiedo com'è cambiata l'attività del vostro studio dopo l'entrata in vigore del Decreto Dignità. L'attività del nostro studio è cambiata in maniera sostanziale. Sicuramente con l'entrata in vigore del Decreto Dignità e con la legge di conversione abbiamo dovuto rispondere a numerose domande da parte delle aziende che normalmente seguiamo nella nostra attività di consulenza sul mondo del lavoro in campo appunto prettamente giuslavoristico. Ci siamo concentrati sin da subito non tanto ad individuare quello che poteva essere un contesto fattuale e concreto per le causali che ritengo siano sostanzialmente impossibili o comunque foriere di contenzioso, foriere di problemi e di ostacoli non da poco ma abbiamo ricercato nell'ordinamento, quindi in quelle normative che già esistevano degli elementi per superare quelle gabole e per consentire alle aziende di utilizzare quello strumento che lungi dall'essere dal mio punto di vista per quella che è la mia esperienza concreta uno strumento di precarietà è uno strumento che crea e che può creare se utilizzato in un certo modo efficienza e può creare soprattutto professionalità. Le risposte principali che siamo riusciti a dare alle aziende sono state due la prima è stata quella della contrattazione di prossimità quindi l'individuazione di percorsi attraverso i quali grazie all'impiego di contratti a termine senza causali e per un periodo superiore rispetto a quello previsto dal decreto dignità potevano continuare a utilizzare i lavoratori a tempo determinato avendo però come condizione quella alla scadenza di un determinato periodo di procedere a delle stabilizzazioni ecco qui quindi lo strumento virtuoso nelle mani della parte datoriale e della parte sindacale che non crea precarietà ma crea stabilizzazione e crea occupazione e lo fa appunto ridando in mano alle aziende quello che il legislatore aveva cercato di portare di via e quindi il controllo sulla propria specifica attività non è stato così semplice perché appunto abbiamo dovuto coinvolgere le parti sindacali abbiamo cercato di coinvolgere più parti sindacali possibili proprio perché lungi dall'individuare dei sindacati amici abbiamo cercato di ampliare quella che era la platea della parte sindacale da far partecipare a questa tipologia di contrattazioni proprio perché dal nostro punto di vista di loro avevamo bisogno avevamo bisogno perché spiegassero ai lavoratori in assemblea le ragioni per le quali andavamo a derogare ad una legge che era appena entrata in vigore e diciamo che se in un primo momento abbiamo incontrato qualche resistenza successivamente la gran parte dei sindacalisti coinvolti è venuta dalla nostra probabilmente spinta anche da tanti lavoratori che in prossimità della scadenza dei 24 mesi oppure dei 12 mesi avrebbero visto irrimediabilmente compromesse le possibilità di permanere in quell'azienda e quindi andando a perdere tutta quella professionalità che erano riusciti ad individuare e a maturare nel corso dell'esperienza lavorativa un altro elemento è stato quello della stagionalità questa è un'opzione che ci è stata data dallo stesso legislatore del decreto dignità o meglio della legge di conversione che ha tolto fuori dalle attività a carattere stagionale la disciplina del rapporto a termine siamo andati anche in questo caso in relazione alla specificità delle singole aziende ad individuare delle attività a carattere stagionale come ad esempio la consegna dei bottiglioni d'acqua per le società che distribuiscono questa tipologia di prodotto nel periodo estivo piuttosto che le società elicotteristiche che assumono soprattutto nel momento in cui c'è la stagione delle attività antincendio ecco che attraverso questo sistema siamo riusciti a consentire alle aziende di continuare ad impiegare del personale che magari già conoscevano e che magari in maniera già funzionale e virtuosa operava con loro al di fuori di quello che è le gabole del decreto dignità